Il volo di Roma è un volo messo come opportunità. Noi abbiamo fatto il volo per Milano, che va benissimo, solo che l'aereo è una sciocchezza tenerlo fermo tutta la giornata. Quindi il volo per Roma è un volo per usare l'aereo anche in quel periodo, che peraltro a noi non costa nulla, ed è un'opportunità importante per i cittadini salernitani, che devono essere loro ad apprezzarla. Devono capire che non conviene andare a Napoli e perdere magari un'ora e mezza prima, due ore prima, per fare un volo intercontinentale, chissà dove. Conviene andare a Salerno, si arriva anche 20 minuti prima, mezz'ora prima, e poi si arriva a Roma e si usa Roma come scalo per andare in qualunque altra parte del mondo. Quindi io credo che sia un'opportunità messa in più e un servizio. Come commenta la dichiarazione di Randolfi, segretario del PD, che ha aperto a tutti, anche all'Udc, anche all'area carfagnana del PDL, ha detto mettiamoci insieme per un programma unico per Sessione del Udc. Le potrei dire che le parole di Randolfi sono l'ultima cosa che io ho da commentare, ma si vede che questo ragazzo ha molta confusione in testa?